Era Mario Merola, non c'era nessuno come lui. Caricissima sera! Si parlava sempre di fenomeno, Mario Merola, Mario Merola, fenomeno. Vabbè, mandiamolo a vedere, insomma, a questa parte. Lui tipnotizzava, copriva tutta la scena. C'era il pubblico che naturalmente applaudiva, che era dentro questa sceneggiata. Caricissima! Sì, ma papà, che c'era la parte? Non me la lasciai più! Napoli ha tanti re, però tutti siamo d'accordo. Lui con re è Mario Merola. Allora... ... Stop, 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 stop.